Proseguono gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutture del gruppo FS, in prossimità della stazione di Novara. Per consentire le attività di cantiere, la circolazione ferroviaria sarà interrotta dalla mezzanotte alle ore 15 e 30 anche nella giornata di domenica 23 giugno, interessate le linee Novara-Domodossola e Novara-Arona. È quindi prevista una riprogrammazione del servizio concorso e bus. News 24, la tua nuova TV locale.